buongiorno buongiorno ascoltatori di youtuber youtube isti oggi il giorno 23 giugno 2023 così per caso sottoscritto denominato con nome aldo maspero è capitato in questo paese denominato berbenno ma la mia meraviglia di esterefazione vedere questo murales guardate che bello il tramonto gli uccellini che cantano e questa bella chiesa e poi vi faccio vedere anche il murales qui che è bellissimo ecco là si vede quel punto là mi hanno detto che si chiama ponte giurino quel ponte che collega da una parte all'altra la valle magna il rispettivo torrente poi veramente è da lodare chi ha fatto questo murales oggi sono berbenno mi sembra un'altitudine di 700 metri se non sbaglio circa c'è un'aria salobre buona sembra di respirare a milano l'aria inquinata delle automobili e sono contento di aver conosciuto anche degli amici che abitano in questo paese e ringrazio loro che mi hanno fatto vedere il murales e saluto anche il prete del paese oggi sono qua nella valle in magna provincia di bergamo ciao 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 ciao